La prima città della provincia di Cosenza, la terza della Calabria, codice purpurale, il patrimonio UNESCO, il castello monumentale di Gordiano, gli scavi di Paludi, il sito archeologico di Sibari. Cercheremo di raccontarvi tutte le sfumature di una terra dalle forti potenzialità, ma spesso dimenticata. Talking a cura di Matteo Lauria, prossimamente sulla CTV, canale 19 del Digitale Terrestre. La prima città della famiglia la pietra dell'attesa lucertola al sole la pietra dell'attesa si arroventa cerca ombra trova luce scappa si arena si rimargina la ferita della verità in un tempo senza lacrime un sorriso trova pace nell'immagine sbiadita dei ricordi la giostra della vita ricomincia nel mormorio di voci che non hanno udito il suono della meraviglia festa della donna 2021 qui dal laboratorio delle donne per l'iniziativa incomiabile portata avanti dal laboratorio dell'associazione aglaia qui con noi la presidente anna lauria che insieme alle donne di questo laboratorio hanno realizzato questa meravigliosa mostra che stasera scopriremo insieme fili intrecciati da penelope a maria lai scopriremo cosa unisce il ricamo e cosa conduce a quelle che sono le donne meravigliose che oggi omaggiamo e che festeggiamo sempre anna lauria cosa avete concretizzato in questa piccola ma sicuramente simbolica mostra qui questa sera a corigliano orsano ma intanto ci sembrava bello il connubio con il laboratorio delle donne curato da gestito dalla direttrice maria curatolo l'associazione culturale aglaia si muove sempre su il versante dei valori dei valori del rispetto dell'etica dell'arte della cultura è in un momento così difficile in cui noi in realtà siamo tentati dal restare a casa chiusi abbiamo deciso invece di uscire allo scoperto sempre nel rispetto delle regole perché quelle vanno rispettate delle regole del covid e volevamo dare un segnale alla città che ci sembra veramente il momento di grande stasi e forse siamo abituati ormai quasi a sue fatti al silenzio all'accettazione e in qualche modo anche alla negazione dell'azione stare a casa significa per molti anche un po spegnersi e invece noi volevamo dire oggi è la giornata internazionale delle donne parliamo di qualcosa che non sia sempre solo violenza parliamo di un atto creativo l'atto creativo è quello che le donne inseguono da sempre e Penelope ce lo insegna attraverso la metafora del filo e del suo telaio Penelope in qualche modo teseva l'attesa la pazienza la grazia sono elementi molto femminili che purtroppo andiamo perdendo e se vuoi per gli amici che ci seguono anche da casa facciamo un giro proprio per capire che cosa abbiamo voluto fare intanto abbiamo creato un filo pensate che attraversa i secoli da Penelope a Maria Lai chi era Maria Lai lo vedremo dopo scopriremo questo percorso dal telaio dal telaio classico del ricamo questo è stato fatto da una delle socie della Glaya Carolina Battistiol e guarda caso malgrado abbia tantissimi anni è rimasto un po sospeso la bellezza del ricamo è quello ti permette di sospenderlo e poi tornarci e magari quando ci torni hai un umore diverso e lì il ricamo cambia perché il ricamo o il filo seguono l'umore di chi lo gestisce di chi lo utilizza guarda caso proprio le mimose che insomma sono il simbolo di questa giornata qui c'è appunto il gioco delle parti con dei telai dove i nomi si inseguono Penelope che lancia in qualche modo il filo a Maria Lai e a proposito di fili mi fa piacere in qualche modo portare qui un pezzo di cuore che è legato un po all'origine della terra di mia madre che è abruzzese e il tombolo è una delle veramente delle performance simboliche in assoluto dell'Abruzzo attraverso il tombolo mani sapienti ricamano ornamenti che hanno un valore indescrivibile per un buon ventaglio ci vogliono almeno 20.000 euro sono manufatti d'eccezione anche perché sono fatti con fili di seta e lino in quanto per fare un centimetro di tombolo ci vogliono giorni allora il ragionamento è questo se devo lavorare tanto tanto vale usare filati preziosi pregiati e qui c'è addirittura uno dei lavori fatti da Cristina Bravi che è una delle maestre aquilane che lavorano appunto al tombolo e ci sembrava bello unire la Calabria e l'Abruzzo in questo filo appunto conduttore e qui invece c'è proprio ci sono i lavori pazienti e il ricamo della nostra cara Maria Curatolo realizzati nel laboratorio delle suore proprio a Schiavonea quando all'epoca le suore insegnavano il ricamo purtroppo è un'arte che si va perdendo perché non le donne le ragazze non hanno più voglia di imparare questa tradizione quindi un po' forse è anche stata colpa della della la nostra generazione che ha saltato un passaggio cioè noi abbiamo rifiutato l'elemento domestico del del filo il percorso come vedete sì infatti come mai questi gomitoli accompagnano tutta la creare anche un po' il covid ci ha imposto delle nuove regole di vita e di convivenza cioè separare gli spazi di ingresso e di uscita ci sembrava quasi carino pensare a una sorta di performance di installazione proprio con i fili che sono appunto invece uniscono in qualche modo sì e qui c'è un lavoro di questa giovane donna di Corigliano tra l'altro lei preferisce utilizzare il suo il suo pseudonimo Mary Angel Jewels sono tutti i lavori fatti a mano e come vedete qui ci sono dei tessuti dei filati che lei ha voluto intrecciare per rendere bello il momento questi lavori ci teniamo molto collaboratore delle donne a presentarli perché sono le opere ovviamente si tratta delle copie dei falsi d'autore realizzati da dalla cara ferraro rosa ferraro la mamma di fabiana luzzi che ormai conosciamo un po tutti e guardate che bello come riesce a trovare un oasi per se stessa e a regalarci delle cose molto belle ci sono questi dipinti e poi ci sono i manufatti proprio infilato quindi le borse i borselli come vedete le mani riescono a creare momenti sapienti qui c'è questa sorta di installazione di una serie di fili e filati che tra l'altro sono stati donati al laboratorio delle donne perché c'è la possibilità di donare a questo laboratorio finché le donne possono soffruirne e veniamo al punto cruciale della della mostra se Penelope tesseva ma era un escamotage per trattenere gli uomini visto che tutti volevano sposare lei invece aspettava Ulisse e quindi si era inventata questa idea geniale di tessere poi la sera sfilava tutto quello che aveva creato beh Maria Lai che è stata una grande artista contemporanea della fiber art una donna una sarda c'è una fondazione dedicata a lei bene lei è riuscita a ricucire i rapporti nella città nel suo paese è stato investito dalla sua idea geniale di attraversare le case con i gomitoli di fili quindi creare un rapporto poi stretto fra gli abitanti e tutte le e tutti i suoi lavori se voi la sentite parlare veramente vi invito a questo punto a conoscerla anche attraverso i video e i filmati che ci sono rimasti le interviste in questo momento in onda stanno andando delle immagini di Maria Lai ecco Maria Lai racconta una cosa bellissima lei dice abbiamo perso il paradiso perché lo abbiamo perso perché Adamo non era un bambino non ha mai giocato noi abbiamo perso il senso del gioco il rapporto con il nostro io bambino e allora perdendo questo aspetto nostro siamo diventati troppo seri troppo pesanti non non osiamo più ecco l'arte ci permette di rompere i vincoli l'arte ci permette di essere liberi l'arte ci permette di giocare con noi stessi con la parte incoscia e profonda lei è riuscita a giocare con con l'arte e l'ha resa grande quindi da un artigianato che quello del ricamo è diventata poi opera d'arte distingo è fondamentale tra artigianato ed arte la vera forza della fiber art che ormai è famosa in tutto il mondo che si scatena un po negli anni sessanta con rosa spina guarda caso rosa spina come la famosa fiaba dell'epoca dove col fuso lei si fungeva bene è successa una cosa particolarissima molto interessante l'ago e il filo da oggetto strumentale perde quella funzione oggettiva e diventa messaggero di altro di una metafora più grande di una forma di libertà tant'è che le artiste come come lei e poi tutte quelle che verranno dopo che si sono lasciate ispirare da Maria Elay hanno cominciato a sforare cioè uscire dal filo tradizionale io stessa che sono una sua grande ammiratrice ho giocato con i figli ho tirato fuori questi lavori che vedete qui questa è una poesia visiva che gioca con i fili si intreccia ogni tanto tira fuori una parola e nella parola e nei fili c'è sempre una grande magia che è la magia del silenzio si lavora in silenzio si cuce si scuce dalle trame i fili entrano escono ma puoi sfilarli in qualunque momento può tornare tutto come prima lei dice l'alai quando tu ricami qualcosa non vai a disfare qualcosa che c'era vai ad aggiungere altro e crei tessuti su tessuti crei delle strutture che però ti permettono di pensare ti fanno ragionare ecco qui ho voluto fare un omaggio a mia figlia l'ho rappresentata attraverso questi incastri questi fili che giocano e ovviamente dialogano in un'immagine che poi ci viene restituita appunto da come vengono mossi i fili vedete questi fili che pendono cioè non c'è una perfezione del lavoro perché non è richiesta la libertà di lasciare i fili sospesi crea comunque una sua una sua armonia qui c'è il lavoro che ha voluto realizzare gas che l'acronimo di giuseppe alessio fini c'è uno studente di cosenza che ha una mano davvero brillante come vedete qui c'è questo questo tratto di penna continuo come se fosse un filo unico che disegna una donna in lacrime una donna che soffre allora che ha uno sguardo molto lungo e poi ci sono i nuovi lavori la vera fiber art odierna è questa qui abbiamo un lavoro che ho fatto io sulla carta stampa su una fotografia è stato inserito del filo reale che in questo caso rappresenta per il 2021 la mascherina la mascherina che purtroppo ci mette come dire ci mette di fronte a una realtà e io anche se siamo in una mostra dedicata all'arte dedicata alle donne vorrei approfittarne visto che questo è il nostro tempo il tempo del covide purtroppo vorrei fare un invito alle donne alle mamme soprattutto alle insegnanti cerchiamo di stare ai nostri figli ai bambini perché questa generazione sta vivendo un passaggio importante a vivendo il disincanto si sta allontanando dal sentimento dalla possibilità di toccare gli altri di avere fiducia negli altri quando questi ragazzi usciranno tutto questo avranno forse per un attimo avranno anche l'impatto se poter toccare qualcuno se poter avere fiducia e quindi cerchiamo di stare di più con loro di aiutarli trovando delle strade le letture la musica condividendo perché finché abbiamo l'elemento del dialogo siamo ancora forse possiamo ancora definirci umani e salvarci e l'arte in tutto questo può aiutarci le forme artistiche possono ricreare in maniera astratta e poi in maniera concreta quei legami che purtroppo e me siamo costretti a limitare per le distanze la lontananza l'isolamento ma noi viviamo questo periodo storico lo viviamo pienamente ma ecco queste dimostrazioni come quella di questa sera dove aperte al pubblico ovviamente con una contingenza studiata anche registrata c'è la possibilità di visitare in maniera molto celere e apprezzare questo momento artistico anche in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo beh oggi era insomma doveroso poterlo fare comeggiare tutte le donne le donne di corigliano rossano della sibaride ma di tutto il mondo e farlo ecco attraverso poi quelle che sono le vostre attività quotidiane il vostro impegno sociale e culturale che parte da qui e che si rivolge a tutte quante e allora io direi di concludere un momento con la responsabile del laboratorio maria curatolo ecco con lei questo momento conclusivo quindi oggi giornata internazionale delle donne il laboratorio riapre ecco con essa tutta l'attività portata avanti purtroppo tutte le attività di laboratorio non si possono ormai portare avanti diciamo che già noi avevamo iniziato a gennaio con il laboratorio di lettura libri da prendere da leggere e restituire e quindi diciamo visto il periodo pandemico particolare portiamo avanti proprio questo laboratorio di lettura che diciamo vuole stimolare l'abitudine alla lettura delle donne del centro storico noi ci rivolgiamo principalmente alle donne del centro storico comunque siamo presenti per su tutto il territorio allora con l'evento di oggi noi abbiamo voluto dare un segnale forte ci siamo siamo presenti e vogliamo vogliamo continuare questo discorso di essere insieme alle donne bene quindi invitiamo a partecipare e entrare a far parte del laboratorio delle donne qui a corigliano nel centro storico di corigliano e allora abbiamo la responsabile invece del centro antiviolezza febbana luigi rosito che è qui in rappresentanza del centro ma questa è una dimostrazione di come il centro sia attivo sul territorio ecco e non solo è così occupi di della violenza quindi delle problematiche legate ovviamente al genere alle donne ma anche promuove attività sociali e culturali importanti per restituire al territorio attività di elevato senso civico sì assolutamente sì salve a tutti questa iniziativa di stasera i fili intrecciati da Pelle Lope a Maria Lai è una delle attività e anche il centro antiviolenza fabiana con l'associazione mondiversi si inserisce in queste attività di sensibilizzazione poi oltre a diciamo momenti artistici e culturali e oggi tra l'altro è l'otto marzo è la giornata internazionale della donna comunemente per convenzione chiamata festa della donna ma in realtà è una delle due iniziative dedicate appunto ai diritti di genere insieme al 25 novembre di ogni anno che la giornata internazionale per la per l'eliminazione della violenza sulle donne per cui non potevamo ricordare in questo giorno tutte quelle donne che hanno combattuto per quelli che sono stati i loro per quello che erano i diritti che volevano ottenere da quelli economici sociali e anche parlare di discriminazione di violenza sono sono delle lotte di donne che hanno cercato di dedicare della loro la loro vita anche ad ottenere tutto quello che è giusto che anche la donna abbia e che non è giusto che vengano ancora oggi a sentirsi episodi di violenza sulle donne per cui il centro antiviolenza Fabiana ne è testimone e ancora oggi lotta e non si è mai fermato neanche con l'emergenza sanitaria da covid-19 ha continuato la sua attività a sostegno delle donne ovviamente rispettando quelle che sono le normative anti covid bene allora buon proseguimento di lavoro al centro antiviolenza e buona festa delle donne a tutti e quindi cara Anna insomma noi salutiamo qui dalla nostra mostra salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito auguriamo ancora una felice festa della donna a tutti quanti e invitiamo ad essere a partecipare e a venire a visitare la mostra si vi aspettiamo i giorni ce li ha appena detti la nostra direttrice curatolo l'arte solo l'arte sopravviverà così ci dicono e allora attraverso l'arte possiamo anche imparare ed educare la nostra anima al bello un saluto a tutti buona serata e buona festa delle donne a tutti un saluto a tutti